che lavorano per il nostro comune, ma deve essere una parola d'ordine anche per il nostro futuro. Questo simbolo è il simbolo di quello che dobbiamo fare da domani. Domani dobbiamo portare avanti questa idea di sostenibilità, questa idea di salvaguardia del nostro territorio, del nostro ambiente e anche questa economia circolare che dobbiamo mettere in piedi insieme a tutti voi, insieme alle scuole è quello che dobbiamo e stiamo facendo anche per il prossimo futuro. Quindi oggi siamo qui, io voglio ringraziare tutti coloro che hanno ideato questa straordinaria occasione perché dobbiamo trasferirle in tutte le scuole del nostro comune, perché la nostra città vivrà con questo spirito di sostenibilità per la tutela dell'ambiente, ma soprattutto guardando al nostro pianeta con gli occhi della nostra infanzia. Grazie e buona giornata a tutti.